Ciao e benvenuto sul canale. Quest'oggi ti presenterò il sistema di intelligenza artificiale applicata all'ambito grafico realizzato da Adobe, che è notoriamente una delle più grandi aziende di questo settore. Quindi tutti gli altri, da Mi Journey ai tanti emuli, dovrebbero prestare grandissima attenzione ad Adobe Firefly, di cui parlerò fra poco. Ecco, nel caso tu fino all'altro ieri abbia praticamente vissuto sulla luna, quando parliamo di Adobe parliamo di una società enorme, uno dei leader nel settore della grafica e dei video, con programmi specifici rivolti a professionisti di altissimo livello, come stai vedendo in questo momento, che ti sto mostrando delle immagini che scorrono dal sito di Adobe. Adobe, non ho capito bene come si chiami esattamente, è la società che produce real leader, ad esempio il notissimo Photoshop, Adobe Express, di cui parleremo prossimamente, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro e tutta la gamma stock di immagini di altissima qualità, oltre a molte molte altre cose. Quindi stiamo parlando davvero di uno dei leader del settore, la cui presenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa di immagini dovrebbe veramente fare tre mari polsi a tutti gli altri. Tra i tanti strumenti che Adobe mette a disposizione figura anche Firefly, che è un sistema appunto generativo di intelligenza artificiale che la società ha implementato in beta nei suoi prodotti principali, quindi Photoshop, Illustrator, eccetera, eccetera. Ma rende anche disponibile gratuitamente per una beta, per il momento soltanto in inglese, ma prossimamente sarà sviluppata anche in altre lingue, da tutti noi, a tutti noi comuni utenti che magari non lavoriamo nell'ambito grafico. Allora, io ci sto giochicchiando da qualche settimana, quindi quando mi ci sono iscritto io l'iscrizione era previo invito, dovevi fare richiesta, ti accettavano la richiesta e potevi utilizzarlo. Ora, da quanto vedo da sito, io sono già logato, quindi il problema a me non si pone, perché sono già per l'appunto logato nel programma, dovrebbe essere comunque a libero accesso. Però, se così non fosse, se quando tu inserisci i tuoi dati o ti registri, ti chiedesse appunto di entrare in una lista d'attesa, non dovrei fare altro che attendere qualche settimana e ti darà libero accesso. Comunque vedremo passo passo come utilizzarlo e anche e soprattutto come bisogna fare per registrarsi ad Adobe Firefly. Prima di andare al sodo, volevo però chiederti un grande favore, che a te non costa assolutamente niente, ma per il canale è molto molto importante. Ovvero, se questo video dovesse piacerti ed esserti utile, lasciaci un like, iscriviti al canale e attiva anche la campanellina delle notifiche, per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo dei nuovi contenuti. E soprattutto, condividi questo video con i tuoi amici per far conoscere anche loro Firefly e commenta. E dimmi cosa ne pensi, dimmi la tua qui sotto, io voglio sapere se questo sistema di intelligenza artificiale ti piace, non ti piace, gli preferisci Mid Journey, gli preferisci Blue Willow, di cui abbiamo parlato in un altro video. Insomma, aspetta i tuoi commenti. Detto questo, torniamo a parlare di Firefly. Come dicevamo, nell'ambito delle intelligenze artificiali, quella nicchia specifica relativa alla generazione di immagini su base di prompt testuali è una delle più fiorenti. Pensiamo a Mid Journey, che tutti noi conosciamo. Pensiamo a Blue Willow, di cui ti ho preparato un tutorial alcune settimane fa, è molto completo e vedo anche che sta piacendo. Lo trovi qui sopra o qui sotto nella descrizione. Pensiamo a Leonardo AI, pensiamo a Stable Diffusion, insomma, sono davvero molteplici i programmi e i sistemi di intelligenza artificiale di generazione immagini. Però Adobe, o Adobe, scegli tu come vuoi chiamarla, è entrata davvero a gamba tesa in questo ambito, con una suite che non ha nulla da invidiare, anzi, per certi aspetti sovrasta tutte le altre che abbiamo visto finora. Ora ci sposteremo il computer e ti mostrerò passo passo come registrarti ad Adobe Firefly e soprattutto come utilizzare i servizi che ti mette a disposizione. Però prima voglio ricordarti che se sei interessato a uno specifico servizio, a un specifico approfondimento su uno dei servizi che andremo a trattare, un po' a volo d'uccello perché altrimenti questo video durerebbe sei ore, ti invito a lasciarmi un commento qui sotto appunto per farmelo sapere. E comunque se appunto non vuoi vedere l'intero video perché sei più interessato agli effetti testuali piuttosto per la generazione di immagini su prompt testuali, non devi fare altro che spostarti nella sezione di video in cui ne parlo. Lo puoi fare andando a guardare la barra di scorrimento qui sotto, ci sono i vari capitoli, oppure direttamente scendendo ancora più sotto nella descrizione troverai un indice con i capitoli che toccheremo in questo video. Fatto questa doverosa premessa spostiamoci al computer e andiamo appunto a utilizzare materialmente Adobe Firefly. Ora andiamo a vedere insieme le potenzialità davvero molto rilevanti di Adobe Firefly che è integrata anche in Photoshop. Infatti quando noi entriamo sulla pagina principale, la prima cosa che ci dice è proprio questa. Scopri il nuovo Photoshop, scopri Firefly, app in beta disponibili soltanto in lingua inglese e qui ci racconta le potenzialità effettivamente notevoli, come dicevo, di Firefly. Fermiamoci un attimo a guardare che cosa genera, ecco. Voilà. E' molto altro all'orizzonte, appunto come dice giustamente qui, montaggi video, sarà un next step. Voilà. Creazione di contenuti, il 3D del futuro, eccetera, eccetera, molte altre cose ancora. Ma ponendo il creator nel centro di tutto, il creator prima di tutto. Quindi intelligenza artificiale generativa che guarda in particolare ai creator. Qui ci dice le altre cose cui sta lavorando. Io ora non mi soffermo a leggerle tutte perché ci vorrebbe veramente un video di qualche, ora, però ti invito a dare un'occhiata perché sono passaggi molto, molto interessanti. Per accedere possiamo andare a scoprire Firefly direttamente da qui e ci aprirà in una nuova finestra un'ulteriore pagina con tutto quello che può fare Firefly oppure possiamo scendere qui sotto, ma intanto arriviamo al stesso posto, diciamo, sostanzialmente e partecipo al futuro di Firefly registrati per accedere. Nel mio caso io ero già logato di conseguenza, posso tornare qui e sul centro utilizzare le funzioni già presenti, ovvero text to image, quindi generare delle immagini da una dettagliata descrizione, il generative fill, quindi rimuovere o aggiungere oggetti o altri elementi in una foto, applicare degli effetti a dei testi e hanno aggiunto la ricolorazione generativa delle variazioni di vettori. Abbiamo ancora la possibilità, non ancora attiva perché, lo ripeto, questa è una beta, quindi siamo ancora in una fase preliminare del sviluppo di questo programma, del variare le immagini in 3D, quindi generare delle immagini sulla base di elementi 3D, come vediamo qui, e estendere le immagini, ovvero noi partendo da un'immagine definita, fare in modo che l'intelligenza artificiale la ampli creando gli elementi mancanti. Se noi scorriamo ancora la pagina, qui troviamo Get Inspired, quindi possibili ispirazioni, per esempio appunto per le variazioni dei testi, per la creazione di immagini su base di testi, che ricordo devono essere rigorosamente in lingua inglese, altrimenti per il momento non li prende, e possiamo scorrere in un tot oppure vedere l'intera gallery, io adesso la apro in una nuova finestra, così non perdo l'altra. Ecco come vedi si possono realizzare dei design davvero molto 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 accattivanti, molto carino questo cane che suona il basso, la chitarra elettrica, io di musica sono ferratissimo. Vediamo a Labrador Playing Electric Guitar, una chitarra elettrica ad esempio. Oppure molto bella anche questa donna con queste sfumature alle spalle, un gattino con dei noodles, altre immagini assortite, cioè veramente l'imbarazzo della scelta. A me assolutamente piacciono i goofy, quindi la trovo molto carina questa. È stata creata con un prompt in realtà semplicissimo, stream pack clock owl, e questo è il risultato. Gattino con gli occhiali, altri gatti che attivano molto, così come anche i goofy, mostriciattoli, non abbiamo di che sbizzarrirci. Naturalmente noi possiamo aprire uno di questi prompt e andarlo a modificare a nostro piacimento. Torniamo alla home page, altre immagini create con Adobe Firefly, qui c'è un video. Sotto questo video troviamo ancora altre funzionalità che verranno integrate prossimamente in Adobe Firefly. Detto questo però noi andiamo a vedere quelle su cui possiamo già mettere le manine pacioccose, partendo da text to image. Allora, come vedi ci dà una serie di immagini appunto generate dall'intelligenza artificiale mediante Adobe Firefly e noi possiamo a nostra volta dargli dei comandi, molto semplicemente inserendoli qui. Ad esempio, diciamo che io voglio disegnare un cane, un cane con un occhio nero e un occhio bianco. L'intelligenza artificiale penserà, per virgolette, un po', elaborerà un po' e mi proporrà questo. Non è proprio esattamente quello che gli avevo chiesto io, il prompt era molto semplice, anche troppo semplice, tranne questo che è un po' più simile all'idea che io gli avevo chiesto. Ora, per brevità, io andrò a inserirgli un prompt che mi ero già preparato, quindi lo copio in collo sostanzialmente. Voglio un piccolo cane, un cagnolino che si è steso, rilassato, su una spiaggia tropicale con un bellissimo mare cristallino sullo sfondo e l'insegnante deve essere ultra realistico. Potrei aggiungere anche altri dettagli, ma io voglio dargli soltanto questi per il momento. L'intelligenza artificiale si mette a pensare, se mi passo il termine, e vediamo che cosa ci crea. Ecco qua. Si può fare meglio, si può fare peggio, però comunque definisce già abbastanza bene quello che io gli ho chiesto. Però le funzioni di Adobe Firefly, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, quindi di immagini, sulla base di comandi testuali, va anche molto oltre, come vediamo ora in questa schermata. Per prima cosa andiamo a vedere le nostre immagini. Lui genera quattro immagini, in questo caso quadrate. Io però posso cambiare l'aspect ratio, quindi portarlo in quattro terzi, tre quarti, quadrata, lo è, widescreen o verticale, e andando a selezionare la tipologia di immagine che voglio, lui andrà naturalmente a rielaborare l'immagine che mi ha creato. In questo caso io gli ho chiesto un widescreen, quindi un 16 noni, vediamo che cosa ci tira fuori. Altre immagini, varie azioni sul tema di quelle che abbiamo visto prima. Se io passo il pulsore su ciascuna immagine, una serie di funzioni. Posso vederne di simili, perché mi è piaciuta. Posso utilizzare il Generative Field per togliere o aggiungere qualche elemento. Posso vedere altre opzioni, quindi inviarla alla gallerie di Firefly, usare un'immagine di riferimento, copiarla nella clipboard. Posso salvarla, caricarla e inserirla tra le favorite. E qui sotto posso dire se il risultato mi ha convinto o non mi è piaciuto, e inviare un report. Quindi già qui abbiamo una serie di funzioni interessanti. Vediamo rapidamente immagini simili. Seleziona questa come immagine che a me è piaciuta in modo particolare, ma modificarle entre tre, proponendomi le varie azioni di questa immagine iniziale. Eh, anche con l'aggiunta di un cane in più, qualche stranezza assorbita. Vabbè, diciamo che forse è la prima a restare migliore. Posso dire ad esempio che questa non mi piace. Posso dire che questa non mi piace e questa, tanto quanto, potrebbe ancora andare. Se io voglio andare a modificare, raggiungere o eliminare degli elementi, con Generative Fill mi consente di inserire o rimuovere appunto degli elementi da questa immagine. Ad esempio, semplicemente potrei volere togliere il background, lo sfondo, e in realtà anche questa zampa in più del cane, che, vabbè, l'ha disegnato con una zampa di troppo. Andando a rimuovere il background, vediamo cosa succede. Voilà. E ho ricavato il mio cane in solitaria. Posso andare a rinserire con il comando Invert, togliere il cane e lasciare il background, però se voglio entrambi, eccoci qua. Siamo tornati all'origine. Posso andare a modificare le dimensioni appunto di qualunque parte del pennello con cui io voglio intervenire, aggiungere o rimuovere. Se voglio andare a rimuovere, andrò magari a modificare la dimensione del pennello, che è la durezza del medesimo, anche il grado di opacità, e posso andare a selezionare l'elemento che in qualche modo mi disturba. Ora, andando nel Generative Fill, io ho perso il mio povero cagnolino. Lo andiamo a rifare nuovamente da capo. Il comando è sempre quello di prima, perché volevo mostrarti altre funzionalità, sempre della creazione di immagini, sulla base di testi predefiniti. Prendiamo quest'ultimo cagnolone qua, che è un po' più simpatico e carino. Vado a modificare le altre tre. Generative Fill l'abbiamo visto, abbiamo altre opzioni. Andiamo a chiedergli delle immagini simili e vi faccio vedere qualche ulteriore variazione. Voilà. Come hai visto, qui ho il content type, quindi nessun tipo di contenuto specifico, fotografico, grafico o artistico. Di default è partito con quello artistico. Proviamo con quello grafico. Ok. Vediamo quello fotografico. Io ho mantenuto l'aspect ratio quadrato, ma ovviamente lo possiamo andare a modificare. Ecco, come vedi così, qui ha cercato di impostarlo più in chiave fotografica. Ho una serie di stili, qui li posso vedere tutti. Volare, Movements, Thames, Tecniche, Effetti, eccetera. In seconda di quello che io vado a selezionare, troverò qui sotto una serie di infinite modifiche. Come vedi, sono veramente tantissime. In questo caso ho selezionato tutte. Se guardo i più popolari, ad esempio il Digital Art, oppure queste altre che vedi qui. Vediamo. Proviamo ad esempio l'effetto neon. In questo caso non lo rigenerò in automatico, devo dirgli io di generarlo, perché ho aggiunto neon qui nelle opzioni. Ok. In realtà, come vedi, non è che ci siano enormi variazioni rispetto a quella precedente. Vediamo Palette Knife, anziché neon, andiamo a rimuoverlo e generiamo. Ok, in effetti qualche variazione vera notata. Vediamo un po' Movements. Anche qui ne abbiamo un bel po'. Togliamo con questo Cubist. Togliamo Palette Knife, Manteniamo l'effetto fotografico. Manteniamo l'effetto fotografico. Cubismo. Simpatici simpatici cagnoloni. Cliccando qui posso anche ripulire lo stile per averli tutti e mantenere appunto. C'è tante miei disegni. Vediamo. Cams, Pixel Art, 3D Art, Iperrealistico, Cartunistico, eccetera. Proviamo a guardare il dossier cartunistico. Sì, decisamente Cartoon. Proviamo ad esempio a farlo in versione Collage. Andando a depennare Cartoon. Ecco, particolare diciamo. Avrei da eccepire sul prodotto, ma vabbè, sulla realizzazione. Vediamo Pixel Art, vado a rimuovere nuovamente quello precedente. E generiamo. Wow, Molto carini i cagnetti in versione Pixel Art. Artisticamente a me piacciono, devo dire la verità. Potremmo stare qui a lungo, a provarli tutti, ma lasciate questo piacere. Volevo solo più provare ad esempio Stamp e levare, togliere Pixel Art. Riesco a depennarlo, ce l'ho fatta. Andiamo a generare. Non vedo enormi variazioni rispetto a quella versione precedente. tecniche, quindi Painting, Doodle, e tutte le altre. Vedi qui, gli effetti che posso applicare, quindi l'effetto bocchè, l'effetto sfocato sullo sfondo, Fish Eye, la foto antica, e molti altri. Proviamo la foto antica. Abbiamo questi cagnoloni, anzi cagnolini, perché sono piccolini, a un'immagine vintage. Voila, l'ha un po' antichizzata, non l'ha reso bianco e nero come l'avrebbe dovuto, però l'ha, vedi, un po' opacizzato l'immagine, la variata. Proviamo la versione con l'effetto bocchè. Ecco qui, ha reso lo sfondo, come vedi, più sfocato. Non sono immagini bellissime, mi rendo conto, ci si può lavorare su, io ho proprio fatto una cosa cotta e mangiata. I materiali utilizzati, anche qui abbiamo una serie di variazioni, proviamo a vedere per curiosità che succede se io gli do metal, ero in certo promette gli origami, proviamo metal. Accidenti, molto aggressivi questi cagnoloni, questo in particolare. dobbiamo ancora un effetto, sono curioso di provare l'effetto carta. Carino, particolare. Andiamo a toglierli tutti, a rimuoverli tutti, perché ti mostro ancora una cosa ulteriore, quindi rigeneriamo nuovamente. Ok, siamo tornati a cani più o meno normali, intanto quello che ha tre orecchie, poverino, va bene, comunque possiamo lavorarci, è sulla qualità dell'immagine, comunque scendiamo ancora, possiamo ancora variare colore e tono, la luminosità e la composizione. Anche qui colore e tono abbiamo una serie di variazioni, dal bianco e nero, colori variati, più caldi, più freddi, vibranti, pastello, eccetera, eccetera. Dobbiamo vedere se in bianco e nero diventano più gradevoli. però ha mantenuto il soggetto, i cani, cioè qualche elemento in bianco e nero, il resto colore. Vabbè, scelta artistica particolare. Torniamo su non, e andiamo però a dirgli invece di una luminosità differente, ad esempio, con una bella luce, in Golden Hour. Vediamo cosa ci tirerà fuori stavolta. Wow, un c'è molto calda, interessante. In alternativa possiamo dargli ad esempio, Dramatic Lighting, una luce drammatica. Dovrebbe enfatizzare degli elementi. Vediamo cosa viene fuori. Interessante, interessante. Andiamo a eliminare gli vari effetti, ricarichiamo, rigeneriamo, così vi faccio vedere sempre il punto di partenza. Anzi, prima di farlo voglio proporre una variante, inserire un Golden Retriever ad esempio. eccoci qua. Bellissimi. Complimenti, non tanto all'intelligenza artificiale, quanto alla natura che ha creato questi splendidi cani. Io personalmente ho un cagnolino molto più piccolo, un Jack Russell Terrier, ma apprezzo molto anche queste splendide caratture, il Golden Retriever. Andiamo a vedere la tipologia di composizione che possiamo andare a vedere. Allora possiamo fare un Close Up, un Wide Angle, possiamo fare una serie di impostazioni di composizione dell'immagine. Ad esempio, vediamo Close Up. Questa immagine, è molto carina, però possiamo andarla ancora a modificare, dicendogli, anziché il tipo di contenuto nessuno, un contenuto di tipo fotografico, quindi va a modificare in automatico la tipologia di immagini che ci genera. Vediamo se rende meglio l'idea fotografica appunto di questi animali. In particolare, mi sembra che questa immagine, questa immagine, siano particolarmente riuscite. Questa col cane che fa le sabbiature un po' meno, e questa anche. Sì, dimenticavo di dirti che le puoi vedere anche appunto ingrandite. Dici qua. Siamo proprio un leone, questo poi le zampe, è così. Questo qui potrebbe essere carino. Andiamo a downloadare appunto tramite l'icona di download. E naturalmente tra le scarici dove ritiene più opportuno. Allora, finora abbiamo sostanzialmente giochicchiato partendo da un prompt estremamente semplice che è quello che ho utilizzato per generare appunto le immagini dei cani, prima dei cagnolini piccoli e poi dei golden retriever. Naturalmente, come per tutti i programmi di generazione immagini sulla base di testi, anche Adobe Firefly necessita di prompt specifici. Vedremo in video futuri qual è l'importanza assoluta dei prompt per ottenere dei buoni risultati con i sistemi di intelligenza artificiale. Prompt specifici che o impariamo, che sarebbe la cosa anche più utile da fare perché così possiamo generare qualcosa di veramente nuovo, oppure possiamo utilizzare una delle tantissime immagini che troviamo nella galleria di Firefly modificandola opportunamente, quella che più ci piace. A questo momento te la sto mostrando facendola appunto scorrere, ma tu stesso la puoi vedere senza problemi e come vedi è in grado di generare delle immagini davvero molto, molto, molto belle. Chiaramente con dei prompt più complessi rispetto a quello estremamente basico che gli ho dato prima io. Se noi volessimo ad esempio andare ad aprire l'immagine di questa auto decisamente vintage, ecco qui che troviamo un prompt abbastanza ricco di informazioni, di dettagli sulla base dei quali per l'appunto il sistema di intelligenza artificiale ha generato questa immagine che è molto bella. Non è però l'unico modo per ottenere dei prompt particolarmente interessanti, accattivanti, così come non è l'unico modo naturalmente quello che ti consigliavo prima cioè di imparare proprio a scriverli tu. Possiamo ad esempio andare su un sito che ti lascio comunque qui sotto in descrizione che si chiama Prompt Hero. Come vedi troviamo dei prompt preimpostati e accessibile anche gratuitamente. Ok. Troviamo anche dei prompt preimpostati per ShedGPT, Midjourney, Stable Diffusion eccetera eccetera eccetera. A noi nello specifico ovviamente in questo momento interessa Midjourney e tu dirai che c'entra con Adobe Firefly c'entra fino a un certo punto nel senso che le indicazioni prompt per Midjourney tolti delle parti relative a indicazioni specifiche per Midjourney sono assolutamente utilizzabili anche su Firefly con ottimi risultati. Quindi scegliamo insieme un'immagine che ci piaccia particolarmente. A me ad esempio non dispiace questa questo panorama questa veduta mi ricorda molto Miyazaki che è una delle mie passioni cinefile. Allora andiamo a vedere il prompt è questo basta semplicemente dargli copy e andarcelo a copiare per l'appunto su Adobe Firefly. Inseriamo qui la descrizione togliendo la parte relativa a comandi che Adobe Firefly non sarebbe in grado di comprendere questi sono specifici per Midjourney noi li togliamo e gli chiediamo di generare l'immagine. Ecco qua la sua interpretazione andiamo a vederli ingranditi. come vedi non hanno nulla da invidiare a quelli generati da Midjourney andiamoli magari in 16 noni o in verticale magari premia di più l'occhio andiamo alla versione in 16 noni o ancora meglio visto che in quel caso l'immagine era verticale vediamo la punta in verticale se cambia qualcosa eccoci molto molto belli ok chiaramente possiamo andare a fare tutte le modifiche che riteniamo opportuno come abbiamo fatto per i cani di prima quindi se vogliamo una versione che sia più fotorealistica ci spostiamo su foto se vogliamo una versione più artistica andiamo a switchare su art e riflessiamo anche perché altrimenti non lo cambia ok se vogliamo ad esempio andare a giocare un po' con le tipologie di stile possiamo andare ad esempio a immaginarcelo all'esatto opposto di quel che è cioè minimalista perché molto ricca come immagine non è detto che la stravolga perché alle volte gli elementi che inseriamo nei prompt vanno a incidere sul risultato finale quindi impediscono tra virgolette la modifica richiesta bisognerebbe riadattare il prompt però facciamo una prova ecco vedi è un'immagine molto più pulita rispetto a quella precedente se lo volessimo vedere invece molto ricco possiamo anche sommare due tipologie comunque vogliamo vederlo molto più ricco scegliamo uno stile barocco gli diamo una rigenerazione come vedi molto più opulento cambiamo immagine allora andiamo a vedere ad esempio questo bel ritratto in questo caso abbiamo un prompt piuttosto ricco e complesso andiamo a modificarlo su Firefly ok lo inseriamo depegniamo tutti gli stili e vediamo di togliere naturalmente i dati relativi esplicitamente il journey e il resto dovrebbe andare abbastanza bene proviamo ecco come vedi ha dato una sua reinterpretazione del volto di quest'uomo in questo caso una versione fotografica si presta infetti un ritratto un ritratto su cui noi possiamo andare naturalmente a fare tutte le modifiche che vogliamo ma andiamo a vedere un'ulteriore variazione un altro soggetto sempre preso da prompt hero andiamo a prendere per esempio questo cowboy solitario che si aggira in questo universo cyberpunk piuttosto interessante facciamo copy andiamo naturalmente sulla nostra dog firefly inseriamo la descrizione non c'è nulla di particolare da togliere vediamo cosa tira fuori allora forse abbiamo trovato la parola che lo infastidisce vediamo cosa mi piace di più eccolo interessante direi vediamolo sempre in widescreen forse questo è quello più a fuoco per quanto non è molto ben definito il viso ma ci si può lavorare questo è forse il migliore ecco potremmo fare generare delle immagini affini però al di là di questo ma si facciamolo generiamo delle immagini affini così abbiamo un quadro di lavoro di insieme le prime due sono decisamente da bocciare bocciamo questa non è male è una versione riveduta corretta anche se questa resta la mia preferita comunque al di là di questo proviamo a modificargli l'effetto vediamo ad esempio se io gli do known togliendo quindi la tipologia di contenuto non artistico ma known ok si ha modificato direi decisamente in modo netto in questo caso è molto presente sono molto presenti le luci neon andiamo a modificare ulteriormente ipotizziamo ad esempio delle luci posteriori backlighting se se non convincentissima ma si può fare diciamo andiamo a vedere ad esempio se lo volessimo togliendo anche il backlighting ma con tipologia contenuto di tipo fotografico come vedi è piuttosto dettagliato questa meno questa sì questa relativamente l'ultima resta la migliore questo ambiente è decisamente futuristico proviamo a dargli una specifica tipologia tipo il movimento steampunk ecco ha deciso di voltare il nostro cowboy che non ci guardava in questo caso appunto guarda verso di noi sia in questa immagine che è molto bella secondo me che in questa in questo caso è una cowboy queste naturalmente sono soltanto alcune delle infinite modifiche che puoi apportare il programma ti consente davvero come abbiamo visto di andare a giocare sugli stili sugli effetti sui colori e toni insomma ti puoi davvero sbizzarrire però questa è soltanto la prima delle quattro dei quattro tools messi a disposizione da Adobe con Firefly il secondo strumento che andremo a vedere se possibile ancora più incredibile del primo è il generative fill quindi il riempimento delle immagini il riempimento e modifiche andiamo a vederlo anche in questo caso possiamo selezionare una serie di proposte che ci fa già Adobe Firefly tra cui scegliere per andare a modificare un po' ci fa vedere già insomma come possiamo trasformarlo giocandoci un po' sperimentando appunto però al di là di questo andiamo a creare qualcosa di nostro come sempre possiamo uploadare l'immagine o trascinarla fare un drag and drop noi andiamo ad uploadarla io mi sono preparato alcune immagini che ho scaricato da Pexels che ti consiglio è un grosso database di immagini gratuite in questo caso abbiamo una tortina che possiamo andare naturalmente a modificare allora vediamo rapidamente prima gli strumenti insert vabbè direi che è evidente per inserire qualche cosa remove per rimuovere e pan serve semplicemente una volta selezionato a spostare la nostra immagine perché dobbiamo poi andare a lavorarci possiamo impostarla in su in giù a destra a sinistra remove lo vedremo dopo andiamo su insert ovviamente per inserire qualcosa devo prima cancellare qualcos'altro che c'è già in questo caso la torta io la voglio fare sparire quindi andrò su add regolerò le dimensioni la tipo la durezza e l'opacità del mio pennello e andrò ad operare materialmente sul disegno sulla immagine in realtà chiedo scuso definito disegno ma erroneamente un'immagine e andrò a selezionare piuttosto grossolanamente non è necessario essere proprio troppo precisi il contorno e poi naturalmente andrò a fare anche le modifiche alla parte interna cioè cancellare praticamente tutto ciò che non voglio che compaia ci sono quasi andiamo a chiudere velocemente qui e andiamo a chiudere a cancellare potrei anche ingrandire il pennello o fare molto prima comunque non c'è tantissimo da chiudere da cancellare andiamo a togliere ok non dovrei aver dimenticato niente ve lo auguro almeno qui sotto posso descrivere l'immagine che ci voglio vedere anziché questi pancake io ci voglio mettere una torta di compleanno quindi a birthday cake e invio voilà ecco una prima proposta oppure vediamo cos'altro mi propone gli piace il tortino bianco vediamo che altro mi propone questa proposta e qui ce n'è un'altra o ancora happy birthday anche se la scritta effettivamente non è correttissima posso anche fargli fare ulteriori modifiche andando su more e mi darà altre proposte abbiamo altre torte come sempre ha qualche difficoltà sulle lettere però insomma è già un un buon risultato se io anziché la torta ci volessi un bel gattino un tenero micio oppure un altro tenero micio un altro tenero micio ancora o quest'ultima versione posso ovviamente dirgli anche in questo caso se l'immagine mi piace o non mi piace selezionando qui e mandargli un report e ovviamente anche scaricarla andando su download oppure come dicevamo prima more e vedere altre varianti ok abbiamo qua un altro gattino oppure c'è questo questo con questa coroncina e quest'altro gattino cambiamo soggetto non vogliamo un gatto poi lo smetto con questa passiamo ad un'altra immagine non vogliamo un gatto ma vogliamo una tigre sempre un felino è ha interpretato giustamente viste le dimensioni come una tigre di pezza una tigre giocattolo va bene allora cancelliamo variamo anche il disegno per chi lo fa vedere qualcos'altro andiamo ad uploadare un altro disegno un'altra immagine per meglio dire delle mele ovviamente io lo sto facendo con della frutta ma non possiamo farlo con qualsiasi cosa e anche con degli soggetti umani poi magari ti farò vedere qualcosa allora andiamo a inserire al posto delle mele qualcos'altro non mi piacciono le mele in realtà si mi piacciono ma in questo caso non voglio delle mele voglio due arance ecco come vedi il contorno non è perfetto perché io non sono stato precisissimo prima quando l'ho scontornato posso cancellare andare a scontornare un pochino meglio magari ammorbidendo l'opacità o meglio riducendo la durezza del pennello andiamo a vedere se ampliando un po' vengono meglio gli chiedo nuovamente le due arance ecco possiamo andare non lo stavo dimenticando anche a modificare determinati valori quindi la tipologia di immagine selezionata la preservazione del contenuto che si può partire dall'originale quindi sarà molto simile all'originale a completamente nuovo a quest'altro valore ulteriore andiamo appunto a provare nuovamente two orange due arance con questa scontornatura fatta un po' meglio ecco qua come vedi ci siamo allontanati molto dal soggetto originale perché sono andato appunto a modificare questi valori quindi di andare completamente verso il nuovo e anche in questo caso di dare molta più predominanza al prompt che io ho inserito ora se io ad esempio provassi a inserirci una banana quella ovviamente non è una forma di una banana vediamo se la adatta o se bisogna proprio dargli la scontornatura più o meno precisa della forma che vogliamo dargli sì brutta ripiegata su se stessa piuttosto malamente però sì potrebbe essere una banana cancelliamo e andiamo a dargli proprio magari cerchiamo di farla meglio dargli una forma appunto di banana allora vediamo di nuovo riprendiamo la nostra simpatica mela mele anzi sono due andiamo a ridurre un pochino il pennello andiamo a togliere tutto quello che è di troppo ma gli diamo sommariamente molte sommariamente ma tanto per ottenere un risultato che sia più o meno al fine una forma che possa ricordare una mezzaluna che potrebbe essere appunto una mezzaluna o una banana andiamo sempre a modificare qui portandolo più per smittare un prompt l'immagine nuova e diciamogli che vogliamo una banana anche un croissant che ci sarebbe come forma quindi interpretata aperta tra effettivamente è una banana non in tutte le proposte è venuta bene ma il concetto di base insomma l'abbiamo capito cambiamo ancora immagine non ho messo esseri umani per quanto ci siano su pex volendo poterlo scaricarli ma oggetti inanimati o in questo caso un animale perché volevo mostrarti come appunto possiamo stravolgere anche la presenza di un animale qui come vedi abbiamo una simpatica mucca al pascolo però noi non vogliamo la mucca vogliamo un altro animale allora non dobbiamo fare altro che andare a modificare appunto le impostazioni e noi in questo simpatico spazio ci vogliamo ad esempio sempre a modificare qui in questo spazio ci vogliamo un cavallo bianco ti ricordo che c'era sempre una mucca lì ha interpretato la sua maniera ci ha messo due cavalli una cavalla puledra con un cavallino oppure un cavallo da solo questa è decisamente sbagliata e questo è un mix fra una mucca e un cavallo ovviamente questo è soltanto una prova di massima sono andato molto molto di grossa ma soltanto per farti capire come funziona se io avessi detto anziché cavallo avessi detto elefante mi sarei ritrovato qui un mio simpatico elefante alcuni riusciti meglio altri riusciti peggio però queste sono proprio delle immagini che io ho preso al volo soltanto per mostrarti come funziona in ultimo prendiamo magari una delle immagini che ci ha già messo a disposizione adobe ad esempio noi vogliamo inserire qui davanti una barca andiamo a modificare dobbiamo sempre ricordarci in questo caso dobbiamo utilizzare il pan per sollevarla dobbiamo sempre ricordarci di andare a cancellare l'area in cui vogliamo che compaia o compaia se ne vogliamo più di una gli oggetti che ne vogliamo inserire quindi diciamo due vecchie barche questa mi sembra molto ben riuscita anche questa abbastanza ben fatta anche se la prima forse sta un po' affondando questa è più d'effetto questa forse la migliore era soltanto una prova posso naturalmente e ho usato questa immagine perché volevo mostrarti appunto questa cosa posso anche andare a fare delle ulteriori modifiche più drastiche ad esempio rimuovere lo sfondo il background e voilà e mi resta lo scoglio con il faro posso naturalmente anche andarlo a reinserire togliendo invece in questo caso il faro con lo scoglio o cliccando in modo da cancellare tutto per ottenere l'immagine di partenza quindi background rimuove lo sfondo invert fare l'esatto inverso se io invece non volessi aggiungere nulla ma volessi semplicemente rimuovere qualche cosa che mi dà fastidio la mia immagine non la rende utilizzabile fruibile per l'uso che voglio farne non dovrei fare altro che andare su removance che è su insert quindi rimuovi andare a selezionare l'elemento che mi disturba in questo caso mi spiace ma il faro ci deve salutare e dirgli appunto di rimuoverlo voilà come vedi ha creato il cielo piuttosto efficacemente realisticamente dove prima c'era il faro piccole variazioni questa forse la più completa però ha rimosso rapidamente e in modo preciso un oggetto che era lì il faro e che c'è ancora nel senso che posso riportarlo se io anziché il faro volessi rimuovere il mare qui sotto potrei anche farlo non avrebbe molto senso ma potrei farlo tutto si può fare con adobe firefly l'unico limite che ti devi e ti puoi dare è quello della tua fantasia poi ripeto questi sono solo gli esperimenti che io sto facendo per mostrarti le potenzialità poi nella pratica l'utilizzo che ne farai aspetta a te deciderlo a seconda dell'esigenza specifica che avrai mi ha ricreato ad esempio un terreno in questo caso parziale in questo caso completo dove prima c'era dell'acqua questi sono solo alcuni esempi naturalmente gli effetti che puoi applicare sono molteplici e correlati appunto alla finalità per cui lo stai utilizzando se noi andiamo a prendere questo simpatico alieno gli togliamo il background ma lo vogliamo inserire anziché in questo ambiente spaziale in una giungla avremo questo nostro astronauta decisamente spaesato comprensibilmente in una giungla sono solo alcuni degli effetti che puoi creare con Adobe Firefly però non mi dilungherei oltre su questo specifico tool passerei a quello successivo e può esserci considerevolmente dilungati sulla generazione di immagini sulla base di prompt testuali e sul riempimento generativo passiamo al terzo tool offerto da Adobe Firefly ricordo sempre che al momento sono disponibili quattro tool su sei già definiti i primi quattro li stiamo vedendo gli altri verranno integrati prossimamente perché siamo di fronte a una beta allora parliamo quindi di text effect effetti di testo traduzione molto semplice stai già vedendo qui una serie di esempi realizzati dalla stessa Adobe possiamo divertirci a giocare appunto con i titoli utilizzando materiali forme colori a nostro assoluto piacimento andiamo a creare qualcosa di nostro la tipologia di inserimento è sempre la medesima ovvero qui possiamo inserire il testo nello specifico che vogliamo vedere realizzato e di qui il tipo di effetto che vogliamo utilizzare rigorosamente in lingua inglese per una volta voglio essere un pochino autoreferenziale questo canale si chiama takeaway giocando sul concetto della tecnologia e del take away del portare a casa i cibi quindi proviamo proprio con il nome del nostro canale quindi take away e visto che spesso il cibo da portar via viene associato al ristorante cinesi chiediamogli dei noodles possiamo dargli invio o andare su generate ci piegherà qualche secondo ecco lo che lo sta creando quindi l'h è comparsa sono comparsa anche le altre lettere perfetto take away realizzato con dei noodles possiamo variare la tipologia di font quindi in groviglio in questo caso trattandosi di noodles che vediamo a schermo fra le quattro opzioni che ci consente appunto Firefly che è proprio il grado zero delle modifiche che possiamo apportare ora vedremo che ne potremo apportare numerose altre comunque vediamole rapidamente eccoci possiamo cambiare il tipo di effetto di effetto di test intendo e quelli precedenti li tiene comunque precaricati se mi sposto fra un effetto all'altro non ci sono enormi differenze per esempio la W qui è meno piena qui è più piena oppure in quest'altro tipologia che vorrei dire essere ridondante secondo me medio è quello perfetto manteniamo il medio possiamo naturalmente variare il font qui ne vediamo alcuni ma sono molti di più in realtà rispetto a quelli che vediamo qui ok diciamo che a noi piace Borro c'è abbastanza leggero e moderno ma in realtà come dicevo i font sono un numero maggiore sono 3 6 9 12 font proviamo ad esempio Robo e teniamo questo non ci piacciono i noodles rimaniamo in ambito gastronomico pizza nulla di più italiano e take away di una pizza sì non ho una bellissima faccia questa pizza non so se la mangerei però adesso le battute possiamo metterci tutto quello che ci viene in mente a me non piacciono particolarmente ma possiamo anche ipotizzare i popcorn per dire che si prestano magari con quell'effetto appunto di grafico che ecco che rende abbastanza bene dal punto di vista per l'appunto grafico oppure farmi pensare cos'altro potremmo mettere cos'altro potremmo mettere rimaniamo sempre in ambito culinario una tipologia di piatto che gli americani pensano che noi si mangi pressoché tutti i giorni in realtà non li mangiamo praticamente mai ma spaghetti with mint bowls con le polpette ecco come ti dicevo lui riconosce soltanto la lingua inglese se io sbagliassi anche semplicemente anziché with mettessi with w t senza l'h finale non la riconoscerebbe e comparirebbe questo simpatico gattino che mi dice appunto che non riconosce questa lingua perché in effetti è un errore grammaticale se però non hai sufficiente fantasia non hai ben chiaro che cosa vuoi realizzare ci viene comunque incontro ancora una volta ad obbedesima proponendoci una serie di prompt già realizzati quindi in ambito natura in ambito di materiali e texture e in ambito di food and drink che abbiamo appena visto i pop corn ad esempio ci sono anche qui abbiamo il gelato abbiamo l'aranciata i donuts il bread toast quindi il pane per toast i sushi il gingerbread eccetera oppure materiali abbiamo i jeans la plastica il granito la versione stream punk eccetera eccetera il balloon che è molto carina devo dire si presta in questo caso pink gold ma se io lo volessi variare di colore potrei naturalmente farlo questo pink gold li da lui di default ma se io lo volessi green gold ho fatto oppure lo volessi red gold quindi restando sulla falsa riga dell'oro ma con varianti di colore insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta possiamo realizzare quello che vogliamo come vogliamo andando ad esempio sulla natura abbiamo i fiori abbiamo il serpente quindi la pelle di serpente abbiamo alternative come ad esempio la pelliccia della tigre andiamo un po' vedere come verrebbe con la pelliccia della tigre carino devo dire e anche qui abbiamo naturalmente le varianti su tutte queste varianti possiamo dire al programma se ci sono piaciute o meno e inviare un report oppure qui rispetto alle precedenti le opzioni sono minori possiamo condividerlo appunto nella file fly gallery copiarlo nel clipboard oppure scaricarlo o inserirlo fra i nostri preferiti in ultimo ma non per importanza abbiamo la possibilità di modificare anche i colori di sfondo e i colori di testo sui colori di testo non metto più di tanto mano perché sono secondari diciamo come comando rispetto al comando primario che diamo nella barra qui sotto quindi pink gold balloons se io anche andassi a variare il colore di testo su un arancione o su un rosso o su un altro colore in realtà non cambierebbe molto quel che cambia invece il colore di sfondo naturalmente può essere trasparente può essere bianco grigio nero o le varie sfumature di colore a nostro piacimento scegli tu quella che piace di più non vorrei mandarti in tilt la vista con tutti questi cambi di colori però c'è una buona scelta diciamo l'unico limite anche in questo caso come sempre con questo tipo di prodotti è la fantasia possiamo creare ciò che vogliamo magari per realizzarlo ed inserire questo questo testo che andiamo a creare in un invito a un compleanno di un bambino piuttosto che per il lancio di un ristorante di un negozio possiamo scrivere ciò che vogliamo in sostanza faccio un esempio finale se anziché takeaway scrivessi ciao a tutti magari giusto ciao a tutti ecco qua lo sta creando cambiamo il prompt gli diamo pasta restiamo sempre sul culinario ecco qua con varie forme di pasta oppure i donut o anche il vetro rotto non lo so possiamo davvero scegliere liberamente cosa ispirarci o anche inventarceli noi ad esempio un bel cielo blu oppure sempre per rimanere in cielo delle nuvole in sostanza come dicevo prima l'unico limite di questo tipo di programmi è la nostra fantasia ultimo tool ma non certo per importanza fra i quattro disponibili al momento sui sei che vediamo qui perché abbiamo ancora il 3d2image e l'extended image che però non sono ancora disponibili appunto in questa beta di Firefly siamo fermi a 4 quindi è la ricolorazione generativa che può consentirci di variare i colori di immagini vettoriali che cos'è un'immagine vettoriale è un'immagine che per specifiche tecniche può essere ingrandita o rimpicciolita a proprio piacimento senza perdere in qualità le trovate in rete potete anche generarle voi con programmi di grafica salvandoli nel formato svg ma qui abbiamo alcuni esempi di vettoriali appunto prendiamo questo che è piuttosto carino e proviamo appunto a lavorarci ok qui è disponibile ce lo mostra in quattro varianti in questo caso non possiamo modificare la dimensione è necessariamente questa possiamo però andare appunto a cambiare gli colori qui abbiamo una serie di esempi quindi salmon sushi sandy stone dark blue trippy disco eccetera eccetera se parla di quali io seleziono mi andrà a modificare di conseguenza i colori dei vettoriali se ad esempio vado sul dark blue li scurirà in buona parte quelli qui sono tutte nella sfumatura del blu se lo faccio sul verde avremo appunto questo color smeraldo lavanda tirerà naturalmente al viola e via insomma ci siamo capiti possiamo ancora modificare il tipo di armonia quindi quella di default con dei colori complementari oppure in alternativa dei colori analoghi o ancora split complementary o square vediamo che succede con square ok diciamo abbiamo una serie di varianti e possiamo anche cambiare appunto l'impostazione dei colori quindi dal bianco che ci darà quindi effettivamente un bianco e nero ma torniamo sul default qui dicevo dal bianco che caricherà la presenza di bianco in qualche modo la evidenzierà ad esempio all'opposto al nero che possono anche interagire perché in questo caso abbiamo bianco e nero e se andassi ad aggiungere un altro colore ne avremmo anche tre vado a togliere il bianco quindi prevarranno i neri ecco qui che emergono infatti i neri vado ad aggiungere un arancione quindi nero e arancione ecco che spuntano gli arancio vado ad aggiungerci c'è anche un blu scuro blu viola un viola più carico più io vado a modificare le impostazioni di colori più appunto avrò delle varianti come vedi qui le stiamo aggiungendo una all'altra in un misto pisto di colori posso anche cancellarle tutte e tornare all'originale questo preserve black and white mi dice che se sono presenti dei bianco e neri devi preservarmi di quelli non toccarli se io lo depenno lui andrà a sbizzarrirsi maggiormente come vedi i bianchi sono quasi completamente spariti più colori vado ad aggiungere e meno saranno presenti i colori di base bianco e nero che dicevamo prima volendoli posso anche aggiungere tutti a mio piacimento se io però gli do preserve black and white devi preservare bianco e nero eccoli che ritornano ora non è finita qui naturalmente perché oltre a selezionare le immagini generative che lui ci propone in formato svg posso anche caricarla uploadarla oppure trascinarla io adesso la vado a caricare e vado a prendermi questa immagine che posso o caricare o appunto uploadare così mi chiede di indicargli cosa voglio generare ad esempio io voglio generare un yellow sun un sole giallo molto giallo vediamo un attimo tu dirai non funziona sono tutti neri certo perché questa è un'immagine bianco e nero io gli ho data volutamente un'immagine bianco e nero dicendogli preservare il bianco e nero se io vado a deselezionare ecco qui che spuntano le varianti se io questo yellow sun volessi aggiungere un arancione voilà chiaramente se io gli dico di preservare il bianco e nero torniamo a monte cancelliamo tutto torniamo alle nostre immagini bianco e nero deselezioniamo preservare il bianco e nero e andiamo a giocare un po' con i colori di esempio partiamo da questo giallo questo nero questo più chiaro marroncino questo giallo diamogli ad esempio un dark blue come vedi va a modificare va ad incidere con un carico maggiore di blu posso dargli questo violaceo e diventeranno appunto più sul violaceo posso dargli questo color smeraldo e cambierà ancora e naturalmente come abbiamo visto prima posso cambiare il tipo di armonia quindi colori analoghi complementari eccetera eccetera vediamo un po' i complementari ad esempio ok oppure torniamo sul default e andiamo però ad aggiungere a questo smeraldo andiamo ad aggiungere un viola piuttosto che un giallo tenue o una punta di bianco più giochiamo con i colori e più questi varieranno bene questo era l'ultimo dei quattro tools disponibili al momento per quanto riguarda Adobe Firefly in versione beta ti ricordo che prossimamente saranno disponibili il 3D to image quindi generare immagini da elementi in 3D e l'extended image quindi avere un'immagine di partenza di base su cui lavorare e chiedere all'intelligenza artificiale di aggiungerne dei pezzi non si può come vedi ancora visionarli ma lo saranno lo si potrà fare prossimamente qui sotto come abbiamo visto hai possibilità di ispirarti e qui ci sono altre tools in sviluppo ad esempio personalizzazione dei risultati text to vector text to pattern e via così insomma ce ne sono un notevole numero di tools in fase di sviluppo e li vedremo tutti prossimamente qui sul canale quindi mi raccomando man mano che adobe si integrerà io cercherò di studiarmeli e mostrarteli quindi resta con noi te lo dirò ancora fra poco ho finito questa parte a computer rimani con noi continua a seguire tech away per essere sempre aggiornato su queste ultime novità ma adesso lasciamo il computer e torniamo in video ottimo abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere per il momento almeno su adobe farfly per il momento perché come hai visto nel corso del video ci sono altri servizi che verranno sviluppati nelle prossime settimane e ti terrò aggiornato appunto parlandotene i nuovi video per non perderli ti invito naturalmente ad iscriverti a questo canale ad attivare la campanella delle notifiche per sapere sempre il tempo reale ogni qual volta pubblicheremo un nuovo video e nel caso auspicabile in cui questo video ti sia piaciuto lasciarci un bel like che sarà molto apprezzato e ci aiuterà a far crescere il canale non dimenticare anche di lasciare un commento qui sotto per farmi sapere se conoscevi già adobe farfly se lo utilizzi se preferisci altri sistemi di intelligenza artificiale generativa e condividi questo video con tutti i tuoi amici per far conoscere anche a loro le enormi possibilità che offre questa suite gratuita torno a ripeterlo di adobe o adobe spettare un po' Grazie a tutti.